buongiorno a tutti da spyproject.com oggi voglio mostrarvi questo sensazionale micro rigolare come vedete dalle dimensioni di una penna è veramente piccolissimo ma soprattutto della parte che si connette al bluetooth del vostro cellulare quindi cosa dovete fare per far funzionare il sistema intanto le dimensioni sono veramente piccole questo va indossato sul colletto o su una tasca della vostra camicia della vostra polo come vedete le dimensioni sono piccolissime 4 cm per un centimetro per circa mezzo centimetro di spessore e cosa consente di fare questo dispositivo questo dispositivo si connetterà al bluetooth del vostro cellulare quindi accendete il bluetooth del vostro cellulare accendete il dispositivo dopodiché allineate cioè praticamente fate riconoscere questo dispositivo al vostro cellulare e quindi quando arriverà una chiamata al vostro cellulare da un interlocutore remoto in automatico sarà trasferita ovviamente a questo dispositivo questo dispositivo che è dotato di un microfono lo trasferirà al micro rigolare che avrete inserito all'interno dell'orecchio quindi cosa succederà la persona remota a distanza illimitata tramite la rete gsm chiamerà il vostro numero di cellulare che ovviamente non squillerà perché voi l'avrete già messo in modalità vibrazione tra il cellulare in automatico trasferirà l'audio tramite il suo di il dispositivo che indosserete quindi è totalmente a scomparsa lo trasferirà all'auricolare in maniera tale che voi sentirete tutto ciò che l'interlocutore che si trova a distanza illimitata avrà da dirvi e ovviamente potrete dialogare perché ha anche un microfono sensibilissimo quindi a voce sussurrata il vostro interlocutore praticamente sentirà tutto ciò che voi in quel momento gli state diciamo sussurrando quindi è un sistema affidabilissimo un sistema occultato un sistema nascosto può essere utilizzato in tutti gli ambienti e di sicurezza di sorveglianza ovviamente si consiglia sempre un utilizzo corretto e rispecchiante appunto le normative vigenti fatene un buon uso e spyproject.com vi ringrazia e vi invito a seguire il canale ciao